Rieccoci di nuovo in studio con la diretta news di Cilento Channel. Abbiamo in collegamento diretto l'onorevole Lucia Fortini, Assessore, ben trovata. Buonasera e grazie di avermi ospitata. Buonasera Assessore, ben trovata, benvenuta su Cilento Channel. Assessore, allora facciamo subito un bilancio di questa emergenza coronavirus che ha sconvolto un po' tutti noi. L'avevamo tenuta un po' distante da quando arrivavano le notizie dalla Cina, pensando che magari non arrivasse a noi, intanto siamo in piena emergenza. È vero, devo dire però che le scuole stanno rispondendo in maniera eccezionale, all'inizio con un po' di difficoltà, perché alcuni insegnanti, alcuni docenti non avevano di mistichezza con quelli che sono degli strumenti tecnologici che poi consentono la didattica a distanza con le piattaforme. La regione, insieme a Apple, Cisco e Restore, ha messo su una piattaforma che sta davvero aiutando tantissimi i nostri docenti. Abbiamo fatto tre webinar coinvolgendo circa 6.000 persone. Quindi, come dire, la scuola si sta mettendo in gioco. non funziona dappertutto nella maniera migliore, ma è evidente che lo sforzo c'è, la passione dei nostri insegnanti c'è e devo dire che anche i ragazzi stanno reggendo molto bene. Eravamo preoccupati all'inizio proprio per i più giovani che faticano naturalmente a rimanere a casa, invece i propri ragazzi sono stati più disciplinati. Assessore, certo, sì, è così, tant'è vero che anche i nostri figli si sono attivati dalle scuole superiori alle scuole medie e devo fare un plauso in questo momento davvero alla struttura regionale ma anche a quella locale e ai tanti docenti e dirigenti che anche se in modo frettoloso hanno dovuto attivare i modelli tecnologici perché noi italiani siamo sempre poco restii a utilizzare le tecnologie. E questa è un'occasione ottima. Assessore, invece, per quanto riguarda le politiche sociali, quindi i piani di zona, le persone svantaggiate, come si sta muovendo la regione in questo momento che sembra pensare solo, se sembra non la regione ma in generale sembra che pensiamo solo ai malati di coronavirus. Proprio in questi giorni abbiamo liquidato come assessorato alle politiche sociali 33 milioni e mezzo di euro agli ambiti territoriali perché se è vero che c'è un'emergenza sanitaria, c'è, e io ringrazio sempre i medici, gli operatori sanitari che stanno facendo davvero un lavoro enorme, ma ci sono anche tantissimi assistenti sociali, psicologi, educatori, tutte le persone che lavorano all'interno degli ambiti territoriali, dei comuni, del terzo settore, che stanno comunque facendo un lavoro importante per non lasciare sole le persone. L'emergenza in questo momento naturalmente sta diventando anche quella economica e sociale. Il lavoro nero purtroppo è una piaga comunque della nostra regione e in questo momento sono tante le famiglie che sono in sofferenza. La regione ha anticipato questi fondi proprio perché immaginiamo di dare un ristoro ai comuni, agli ambiti territoriali e proprio stamattina abbiamo fatto il primo incontro della task force politiche sociali che vede la presenza degli ambiti territoriali, del lanci, del terzo settore, insomma una presenza consistente, associazioni di persone con disabilità per capire quali sono le criticità sul territorio e cercare di dare delle risposte. La prima che ci è venuta in mente è proprio questa, cioè utilizzare queste che sono risorse per andare incontro alle esigenze di chi non riesce oggi a mettere il piatto a tavola, quindi dare la possibilità ai comuni di attivare servizi di questo tipo, anche proprio attraverso l'acquisto di derrate alimentari per far fronte a quella che sta diventando un'emergenza. Anche perché all'inizio pensavamo che il periodo in cui si dovesse stare in casa sarebbe stato di due o tre settimane, oggi sappiamo bene che non è così, allora dobbiamo attrezzarci. Assessore, questa è una notizia allora, domani subito ne facciamo un articolo noi di Cilento Channel. C'è Raffaella che vuole farle una domanda. Sì, volevo chiedere all'assessore per quanto riguarda anche i 7 milioni per l'aiuto alle famiglie, per quanto riguarda l'accudimento dei figli al di sotto dei 15 anni. Ecco, all'inizio di marzo abbiamo avuto notizia di quest'altro importante sostegno. Possiamo anche sviluppare quest'altra iniziativa e farla capire anche ai nostri telespettatori, magari c'è qualcuno che può accedere a questi fondi. La settimana prossima contiamo di pubblicare il bando. Questa è una misura che è destinata a famiglie che abbiano un reddito ISEE inferiore a 20 mila o 35 mila euro. Abbiamo immaginato due scaglioni di reddito e due bonus di 300 e 500 euro a seconda appunto della fascia di reddito. Chiaramente all'inizio l'avevamo immaginato come voucher per le babysitter. Oggi pensiamo che possano essere utilizzati, visto che è un bonus che comunque diamo alle famiglie come forma di ristoro, anche per l'acquisto di attrezzature. Avevamo parlato poco fa di DAD, didattica a distanza. Una delle criticità di cui ci siamo resi conto è il fatto che alcune famiglie non hanno la possibilità di acquistare per esempio un iPad, un computer e quindi attraverso questo bonus sarà anche possibile l'acquisto di queste attrezzature. Insomma, andare incontro a quelle che sono le esigenze delle famiglie che hanno, diceva lei prima, figli con meno di 15 anni. Per ora abbiamo stanziato 7 milioni e naturalmente siamo anche pronti ad aumentare la dotazione finanziaria. Dovremmo capire quali saranno i fabbisogni del territorio. La settimana prossima dovrebbe uscire anche il bando Io Studio, la borsa di studio, ormai è la terza annualità, che diamo ai ragazzi delle secondarie di secondo grado, le scuole superiori per intenderci. Insomma, in un momento di difficoltà, la Regione Campania cerca di dare segnali. Sappiamo bene che ci sono enormi difficoltà, noi non ci fermiamo. Chiaramente è molto più complesso lavorare da casa, ma è anche dare il buon esempio, cercare di uscire il meno possibile, che è sì un sacrificio, ma è l'unica cosa che possiamo fare rispetto a chi a casa non può stare, a chi deve uscire fuori di casa, e mi riferisco appunto ai medici, agli assistenti sociali, a tutte le persone che uscendo devono dare una mano alle persone che sono più in difficoltà. Quindi nella battaglia contro il virus è il nostro contributo. Ecco, le rubiamo ancora qualche minuto. Assessore, per parlare di politiche giovanili. Lei ha attivato benessere giovani, che ha avuto grande riscontro anche nel nostro Cilento. Noi stessi di Cilento Channel ci hanno reso partecipi di questa iniziativa con la formazione di tanti giovani, soprattutto nel giornalismo. Che cosa possiamo dire? Perché poi in realtà i corsi di formazione non sono terminati e si sono trovati un attimo in pausa con questa iniziativa. Quindi la Regione che cosa ha previsto per loro, non solo per benessere giovani, ma per tutti i giovani della Regione Campania? Proprio per le politiche giovanili c'è stato un bando che si è chiuso da poco. Ovviamente ora le procedure hanno subito un rallentamento per il finanziamento dei forum dei giovani. Io credo che siano una grande risorsa, ma se questo è vero ne dobbiamo dare anche l'opportunità a loro di parlare in prima persona. Per cui questo bando cerca di finanziare quelli che sono i progetti che i giovani dei vari comuni hanno immaginato e che possono chiaramente incidere nel sociale. È ovvio che avere le tre deleghe, istruzione politiche sociali e politiche giovanili, finisce poi in qualche maniera per farle incrociare. Per quanto riguarda benessere giovani, noi cercheremo di dare ampia possibilità, ma questo vale per tutti i bandi regionali, dare ampia possibilità agli enti. Chi riesca a continuare il percorso anche attraverso delle modalità nuove può farlo, chi ha bisogno invece di posticipare la chiusura naturalmente è libero. Io credo in questo momento noi napoletani e anche campani siamo abituati a dire pensa alla salute. Ecco, noi in questo momento io credo dobbiamo pensare prima di tutto al bene più prezioso che è la salute. Dopodiché tutta una serie di questioni amministrative saranno risolte. insomma, tutti devono semplicemente star tranquilli. Alla fine risolvere questioni amministrative sarà il meno e la Regione Campania in tutti questi anni ha cercato davvero di essere vicina alle persone e ascoltando quelle che sono le istanze, quelle che sono le richieste ha tentato appunto di mettere in campo tutta una serie di misure e di procedure. È questo che abbiamo fatto ed è questo quello che abbiamo intenzione di fare. Figuriamoci in un momento come questo. Certo. Assessore, per chiudere mi piacerebbe un suo messaggio ecco ai tanti giovani e alle tante famiglie. In questo momento ce n'è bisogno? Ma io dico prima di tutto un grande ringraziamento soprattutto ai ragazzi. onestamente penso come moltissimi adulti io temevo che fosse difficilissimo tenere in casa i ragazzi invece stanno reagendo benissimo e quindi a loro va il mio ringraziamento e a tutti pensare al futuro con fiducia. Sicuramente è un momento duro è un momento terribile però immaginiamo che sta peggio di noi nel senso che sta affrontando una serie di questioni che sono davvero a volte drammatiche e di impiegare tempo per come dire anche riflettere su quelli che erano dei ritmi a volte di vita e di lavoro forse nati e apprezzare una volta finito questo momento duro a volte una passeggiata non so se a voi è capitato a me a volte non apprezziamo una passeggiata il fatto per esempio di andare a fare shopping il fatto di avere la libertà di uscire e questo secondo me ce lo può far apprezzare molto di più quindi ecco pensare a quello che avevamo e non ce ne rendevamo conto e vivere al meglio una volta che avremmo terminato questo momento Assessore dica la verità in smart working sta lavorando di più in realtà in realtà si lavora in maniera diversa alla fine si riesce sicuramente a produrre è comunque molto più complicato perché anche rispetto a quelle che sono le riunioni non riesci a capire ci sono una serie di messaggi che a volte percepisci quando le persone le guardi negli occhi che naturalmente ti mancano capita a tutti insomma in una riunione di lavoro a volte anche lo sguardo ti dice molto più delle parole però è ovvio insomma sicuramente ci saranno dei disagi ma tutto sommato sono superabili e rispetto al lavoro con un presidente come De Luca è difficile rallentare i ritmi veramente molto difficile per cui continuiamo a fare tutto sommato quello che facevamo anche prima con modalità diverse naturalmente Assessore io mi riferivo anche al tempo nel senso che andiamo a risparmiare il tempo lavorando in smart working e quindi rimanendo a casa quindi sugli spostamenti sulle code e quindi era quello il mio diciamo intento lei lavora anche questo è vero anche questo è vero in realtà lo smart working ti fa recuperare quel tempo e il paradosso è che mentre quando sei fuori casa giudichi quello il tempo di lavoro quando lavori a casa alla fine è senza soluzione di continuità finisci di fatto per lavorare dalla mattina fino alla sera ininterrottamente esatto noi la ringraziamo davvero tanto per l'intervista e ci auguriamo insomma di poterla di nuovo ricontattare per aggiornare anche i nostri telespettatori sul suo lavoro volentieri casomai proprio la settimana prossima quando saranno pubblicati i bandi di modo che potremo anche far sapere come partecipare grazie Assessore Lucia Fortini della Regione Campania istruzione politiche sociali e politiche giovanili grazie Assessore grazie a voi e buona serata buon lavoro grazie a voi